Ci troviamo oggi a Stile Capelli di Pesaro, l'unico salone della nostra zona specializzato nella cura del capello e colorazione che per la seconda volta sarà parrucchiere ufficiale di San Revo. Parrucchiere ufficiale che sarà Davide Ziccarelli, titolare appunto di Stile Capelli. Chiediamo a Davide quanto è significativo per te e il tuo team rappresentare non solo il tuo salone ma anche la nostra città al festival. Beh sicuramente ci dà un grandissimo orgoglio soddisfazione portare Stile Capelli Pesaro dal festival di Sanremo che come evento ormai nazionale anche internazionale che è seguito anche all'estero quindi ci fa un grandissimo piacere e cercheremo di portare il nostro stile a Sanremo. È la seconda volta per Stile Capelli che si riconferma anche il salone scelto per la Milano Fashion Week 2023. A questo punto chiediamo qual è il segreto che vi sta portando così in alto? Beh sicuramente tanto impegno, sempre alla ricerca di novità, non ci fermiamo mai anche a livello di aggiornamenti quindi cerchiamo sempre di stare al passo, tanti sacrifici, tante ore di tempo a dedicarsi alla crescita professionale quindi sta dando i suoi frutti. Sicuramente sacrifici, valori umani ma anche capacità tecniche, quelle per risolvere problemi di caduta dei capelli, della cura della forfora, realizzare incredibili cambi di look come vediamo anche nelle vostre pagine social. A questo punto vi chiediamo quanto studio ed edizione c'è dietro a tutto questo? Diciamo che Stile Capelli ormai da oltre 40 anni che ci occupiamo di colorazioni e cura del capello quindi ci siamo sempre dedicati a questo, a cercare di dare il meglio per i capelli con tanta formazione, cercando sempre di trovare qualcosa di nuovo per cercare di dare il meglio ai nostri clienti.